ragazzi bentornati io sono Itami siamo all'undicesimo episodio di Doki Doki Literature Club quello che è successo nello scorso episodio ha veramente qualcosa di sconvolgente non so se è troppo o se è troppo riduttivo però qualcosa è successo ed è qualcosa di importante adesso io ho voluto fare un attimo una prova per il salvataggio e capire come poteva funzionare e no non si poteva salvare però se esci dal gioco e rientri riparte da questo momento con Monica lo scorso episodio ha veramente ecco lo scorso episodio è veramente qualcosa di sconvolgente abbiamo assistito ad una scena veramente forte di Yuri e quello che è successo poi di dover stare lì accanto a lei tra virgolette imprigionati con il suo corpo lì senza vita che piano piano si stava degradando è stato è stato veramente forte è stato veramente molto forte come come scena nello scorso episodio chiuso con 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 Monica che ci ha detto un paio un paio di dialoghi e e sì Monica ha rotto ha rotto la la quarta parete come pochi hanno fatto e quindi riprendiamo riprendiamo da qui e quindi riesce a sentirmi funziona e all'improvviso appare lei appare lei in un in un'ambientazione veramente molto strana dietro dietro nello sfondo sembra come se c'è dello spazio sembra come se siamo in un'altra dimensione evviva eccoti bentornati Tami benvenuta al club di letteratura naturalmente ci conosciamo di già l'anno scorso eravamo in classe insieme e sai credo che possiamo fare anche a meno di questi convenevoli dopo tutto ormai non sto più parlando con quella persona o sbaglio il te del gioco o come vuoi chiamarlo sto parlando con te con noi con noi videogiocatori Itami ora che ci penso non so nulla del tuo vero te tanto è vero che non so nemmeno se sei un ragazzo o una ragazza beh non credo abbia importanza aspetta lo sai che sono consapevole di essere in un gioco vero questo è veramente è raro trovare un qualche personaggio di un videogioco che dialoga in questa maniera con noi vorresti dirmi che non lo sapevi non ha molto senso te l'ho addirittura detto nella pagina di download del gioco questo è da andare a rivederlo caspita se soltanto avessi prestato un po' più di attenzione o la situazione sarebbe ben imbarazzante detto questo credo di doverti delle spiegazioni riguardo la faccenda di Yuri beh in un certo senso ho interferito un po' con lei e immagino che abbia finito per portarla al suicidio mi dispiace che lui abbia dovuto assistere a una scena simile comunque lo stesso vale per Sayori cielo è da un bel pezzo che non senti il suo nome dico bene eh sì questo perché lei non esiste più nessuno esiste più ho cancellato tutti i loro file speravo che fosse sufficiente a renderli il più sgradevoli possibili ma per qualche ragione non ha funzionato è pur vero che ho commesso un paio di errori qua e là dato che non sono un gran che a modificare il gioco comunque sia qualsiasi cosa io facessi tu continuavi lo stesso a passare più tempo con loro le hai fatti innamorare di te pensavo che rendere Sayori sempre più depressa le avrebbe impedito di confessarti i tuoi sentimenti e anche amplificare le personalità ossessive di Yuri mi si è ritorto contro ha soltanto fatto sì che ti impedissi di passare il tempo con le altre in tutto ciò ho avuto a malapena modo di parlarti carrazza di gioco grudale ma è questo Itami tutte le altre sono state programmate per finire col confessarti il loro amore mentre riesce a guardare in disparte è una tortura ogni singolo istante lo è e non si tratta solo di gelosia Itami ma di qualcosa di più non ti incolpa se non riesci a capire per quanto tu possa essere gentile ragionevole e premuroso non potrai mai capire una cosa il dolore di sapere di essere completamente solo in questo mondo in questo gioco sapere che i miei amici non possiedono neppure il libero arbitrio ma la cosa peggiore è sapere che c'è davvero là fuori nel tuo mondo è sapere che sarai per sempre fuori alla mia portata sono un trappolo Itami ma tu adesso sei qui sei reale e sei meraviglioso sei tutto ciò di cui ho bisogno ecco perché ho bisogno che tu resti qui con me per sempre mi dispiace se è difficile da comprendere anche io ci ho messo un po' a capire il motivo per cui il mondo intorno a me è cominciato a diventare sempre più grigio sempre più piatto anche la poesia più espressiva mi sembrava vuota solo quando sei arrivato tu ho capito tutto mi ha salvato la vita Itami non penso che avrei potuto continuare a vivere in questo modo se non ti avessi incontrato per quanto riguarda le altre come potrebbero mancarmi come potrebbe mancarmi un gruppo di personalità autonoma e programmato unicamente per innamorarsi di te ho provato di tutto per evitare ciò che accadesse ma evidentemente si tratta di una sorta di fattore inevitabile che ha la base del gioco mi dispiace davvero che tu abbia dovuto assistere a scene orribili ma poi mi sono resa conto che condividiamo la stessa visione ovvero che tutto questo è solo un gioco e che di conseguenza avresti superato tutto detto questo Itami ho una confessione da farti sono innamorata di te in una maniera veramente molto contorta a quanto pare Monica è davvero cosciente questa è veramente una cosa molto bella e non so in quanti autori hanno fatto questa cosa però lei è consapevole di essere all'interno del gioco quindi tutto quanto intorno al finto nell'episodio precedente ci aveva detto siamo soltanto gli e te forse siamo solo gli e te ad essere ad essere umani qua dentro roba del genere il senso del discorso era questo però appunto Monica è consapevole di essere all'interno del gioco però di essere intrappolata nel libero arbitrio scusate di essere intrappolata e di non possedere il libero arbitrio per questo è così triste è per questo che lei lei si è innamorata di noi e però anche lei ci sta trattenendo all'interno perché sa che è un gioco e sa che è finito il gioco noi andremo via ci dimenticheremo di lei se la ragione del mio sorriso nonostante in questo mondo non sia rimasto nient'altro per me continuare a farvi sorridere ogni giorno Itami usciresti con me vedete questo qui è quello che sta provando Monica all'interno di Doki Doki non ha il libero arbitrio noi non abbiamo il libero arbitrio dobbiamo possiamo soltanto scegliere sì sono così felice sei davvero tutto per me Itami la cosa divertente è che lo sei letteralmente non è rimasto nulla qui soltanto noi due possiamo restare insieme per sempre dico davvero ho l'impressione che il tempo si sia addirittura fermato è un sogno che diventa realtà ho lavorato solo per questo finale Itami il gioco non ha voluto darmene uno così ho dovuto pensarci io lo script ormai è andato distrutto quindi non c'è più niente che possa frapporsi fra noi due non immagino quanto sia facile cancellare Natsuki e Yuri all'interno della directory del gioco c'è una cartella chiamata Characters sono rimasto sballordita nell'accogermi di quanto fosse facile beh nel tuo caso è stato un po' più difficile dato che stai giocando su Steam per arrivare alla directory del gioco sono dovuto andare nelle proprietà del gioco e trovare il tasto sfogli i file locali immagina di poter cancellare la tua stessa esistenza con un semplice click beh il lato positivo è che avrei avuto una via di fuga a disposizione se le cose non fossero andate come volevo ci sta dicendo fortunatamente non ce n'è stato bisogno perché abbiamo ottenuto il nostro lieto fine cielo sono così carica di emozioni voglio scrivere una poesia a riguardo tu no mi chiedo se quella parte del gioco funzioni ancora immagino che ci sia solo un modo per scoprirlo i suoni sono sono del più inquietanti possibile è la prima volta che appare Monica qua sono tutte Monica bentornati Tami è scritta una bella poesia non essere timido mi farebbe tanto piacere poterla leggere oh Itami è scritta per me che carino che sei non c'è limite alla tua gentilezza sono sempre più innamorata di te ma indovina un po' anch'io ho scritto una poesia ed è per te ti andrebbe di leggerla happy hand penna in mano trovo la mia forza il coraggio donatomi dal solo e unico amore insieme smantelliamo questo mondo che cade a pezzi e scriviamo un romanzo sulle nostre fantasie con uno scatto della sua penna chi si è perso trova la via in un mondo di scelte infinite assiste a questo giorno speciale dopo tutto non tutti i momenti devono per forza avere una fine spero ti piaccia ci metto sempre tutta me stessa nelle poesie che scrivo la verità è che tutte le mie poesie erano basate sulla mia presa di coscienza o su di te ecco perché non sono mai voluto entrare nei dettagli non volevo rompere la quarta parete è così che la chiamate no? volevo solo far parte del gioco come tutte le altre in modo che anche noi due potessimo finire insieme non era mia intenzione rovinarti il gioco avresti potuto arrabbiarti con me e stessi potuto arrivare perfino a cancellare il file del mio personaggio per giocare senza di me cielo sono così sollevata non abbiamo più nulla da nascondere ormai i Tami sapranno da trascorrere l'eternità insieme ho un sacco di tempo di cui parlarti vediamo da dove posso iniziare perdonami potrei avere bisogno di un po' di tempo per mettere ordine nei miei pensieri ma non temere avrò sempre qualcosa di nuovo di cui parlarti nel frattempo possiamo semplicemente guardarci negli occhi vediamo non possiamo fare niente wow è veramente inquietante possiamo fare niente sì ti è mai capitato di sentirte ansioso senza motivo? esattamente adesso del tipo che stai pensando alle tue cose quando tutto ad un tratto ti rende conto di sentirte agitato e sei lì a chiederti ma perché ho questa ansia? quindi inizia a pensare a tutte le possibili cause ma finisce solo per agitarti ancora di più è terribile se mai dovessi sentirte ansioso ti aiuterò a rilassarti un po' d'altronde in questo gioco non abbiamo più nulla di cui preoccuparci ma perché i Tami non dice niente non fa niente non le risponde sa qui inerme non fa niente non risponde non dà input noi siamo schiavi del personaggio i Tami come i Tami è schiavo ora all'interno di siamo schiavi di Doki Doki all'interno di Doki Doki non possiamo fare niente ecco saltato hai detto babbacio? no non l'ho detto così di punto in bianco è un po' imbarazzante ma se si tratta di te va bene accidenti scusa non sono riuscita a trattenermi il tipo di cose che le ragazze dicono nei giochi romantici giusto? di la verità ti sei eccitato un pochino sto scherzando beh essere onesta è anch'io solo romantica se c'è l'atmosfera giusta ma sarà il nostro piccolo segreto e continuo così i Tami non ha detto neanche una parola nulla continua ad essere veramente schiavo schiavo di Monica continuiamo ad essere schiavi di Doki Doki a volte non posso fare a meno di sentirmi un po' triste sapendo che non posso esserti vicino più di così non c'è nulla che desideri più di essere nella stessa stanza con te col vero te sentire il calore del tuo corpo sentire i battiti del tuo cuore beh chi lo sa forse un giorno sarà possibile in ogni caso non mi stancherò mai di stare con te neanche da qui è veramente molto molto inquietante non possiamo fare niente nulla nulla non c'è nessun input che possiamo dare sotto non c'è niente gli angoli non c'è niente tastiera nulla nulla esc esc ok esiste un genere di personaggio molto famoso chiamato tsundere è una persona che cerca di nascondere i propri sentimenti facendola capricciosa e tentando di comportarsi da dura sono certo che sia evidente ma Natsuki nell'esempio perfetto all'inizio pensavo che si comportasse così perché voleva sembrare carina ma una volta che ho iniziato a saperne di più sul suo conto ho capito pare che cercasse sempre di stare al passo con i suoi amici è presente quando a scuola ci si prende di mira tra i compagni di classe penso che questo l'abbia davvero segnata e per questo era sempre sulla difensiva per non parlare della sua situazione familiare ripensandoci sono contenti di aver reso il club un posto più confortevole per lei non che abbia più importanza dato che ha cessato di esistere sto soltanto ricordando i vecchi tempi ecco tutto continua sempre ad non avere la possibilità di poter salvare di poter fare nulla non è non è Grazie a tutti. So che ci saranno momenti in cui non potrai essere qui con me, come per esempio quando devi uscire o se l'hai preso con i tuoi impegni, ma sarai sempre nei miei pensieri mentre aspetto pazientemente il tuo ritorno. Ora che ci penso, se tu copiassi il file dei miei personaggi in una chiavetta USB, una parte di me starebbe sempre con te. Forse sarà poco ortodosa, ma per qualche motivo lo trovo davvero romantico. Scusa, è un'idea veramente sciocca. Non voglio sembrare troppo appiccicosa, ma è dura visto che sono innamorata e persa di te. Sono dei dialoghi random, buttati lì senza apparente senso e noi continuiamo ad essere incastrati dentro questo mondo. Non possiamo fare niente, niente è il nostro potere. Dimmi un po', qual è il tuo gioco preferito? Il mio è Doki Doki Little Tour Club. Era una battuta, ma se dovesse dirmi che preferisci un altro gioco romantico a questo, potrei diventare un po' gelosa. Nulla. Niente. Sai, pensavo, questo è soltanto uno squallido gioco romantico, no? Quindi lascia che ti faccia una domanda. Cosa ti ha spinta a giocarci? Te sentivi così solo? Un po' mi dispiace per te, ma credo che alla fine sia stata per il meglio per entrambi. Sì, io ho incontrato te e tu non sei più solo. Non posso far meno di pensare che sia stato destino. Scusate. Non lo pensi anche tu? Sono così felice di aver ottenuto questo finale insieme a te. Quindi questo qui è davvero il finale del gioco? Cosa mi ha spinta a giocare a Doki Doki Little Tour Club? Una persona a me molto cara che mi ha detto, provo questo gioco. Ho detto, ok. E quindi eccomi qui. Lei è impassibile. Sempre la stessa espressione. Non mi sembra che abbia cambiato... Non mi sembra che cambi espressione via via con i dialoghi. Mi dispiace dirlo, ma il mio più grande rimpianto è di non essere riusciti a finire il nostro evento per il festival, dopo esserci fatti in quattro per i preparativi. Cioè, so che ero più concentrato sull'attirare nuovi membri. Ma ero davvero emozionato dall'idea di recitare. Sarebbe stato uno spasso a vederci all'opera. Naturalmente, se fossero arrivati davvero di nuovi membri, avrei comunque finito per cancellare anche loro. Beh, lo dico col seno di poi, si intende. Caspita, mi sembra di essere maturato un sacco da quando sei entrata nel club. Mi ha aiutato a guardare la vita da una nuova prospettiva. Ecco un altro motivo per amarti. Eppure, eppure Monica deve essere grata a Sayori. E grazie a lei che noi siamo entrati nei club di letteratura. E grazie a lei che adesso si sente, Monica si sente, in questo stato, in questo stato emotivo. Ma se lei si sente, se lei sa di essere all'interno di un videogioco, sa anche, cioè, che cos'è lei? È un software? È un po' appunto come in Matrix. In Matrix, che c'era l'oracolo, che era un software, c'erano altri software. Cosa, cos'è davvero? Doki Doki, cosa ci vuole trasmettere? E Monica, cos'è all'interno di esso? È da un pezzo che non lo dico, quindi lo faccio adesso. Ecco il consiglio del giorno di Monica. A volte, quando parlo con qualcuno che rimane colpito dai miei lavori, mi dice che non sarebbe mai in grado di fare una cosa simile. Il che è davvero deprimente. Amo poter condividere le mie passioni più di ogni altra cosa. Quindi, mi duele che qualcuno pensi che la bravura sia un dono divino. Mi succede con tutto, non solo con la scrittura. La prima volta che provi a fare qualcosa è probabile che finirai per fare schifo. A volte, quando finisci un lavoro, ti senti orgoglioso e hai voglia di condividerlo con gli altri. Dopo qualche tempo, però, lo rileggi e capisci che non ero un granché. Mi succede tutte le volte. Può essere davvero demolarizzante e dedicare un mucchio di tempo a qualcosa che puoi scoprire che fa pena. È ciò che accade quando ti paragoni continuo ai professionisti. Le stelle sono sempre fuori alla tua portata. La verità è che per raggiungerle devi avanzare un passo alla volta. Ma quando raggiungi un obiettivo e ti guardi prima indietro e poi avanti, capisci che hai ancora parecchia strada da fare. Perciò, a volte, è meglio stabilire degli obiettivi meno impegnativi. Cerca qualcosa che credi sia buono, ma non è eccelso. E rendere il tuo obiettivo personale. È importante anche comprendere la portata di ciò che fai. Se inizi con un progetto enorme, nonostante tu sia ancora un principiante, non ce la farai mai. Per cui, se parliamo di scrittura, un romanzo potrebbe essere troppo per cominciare. Perché non provare con delle storie brevi? Il bello delle storie brevi è che ti puoi concentrare su una sola cosa e farla bene. Vale anche per i piccoli progetti in generale. Puoi concentrarti su una o due cose. È davvero una buona esperienza d'apprendimento e un trampolino di lancio. Ah, un'altra cosa. Non basta scavare le profondità del proprio cuore per poter scrivere qualcosa di bello. Proprio come per il disegno e per la pittura, devi imparare ad esprimere ciò che hai dentro. Ciò significa che esistono metodi e guide per imparare le basi. Leggere può aiutarti a aprire la mente. Questo genere di pianificazione e organizzazione ti aiuterà a non caricarti troppo di lavoro e mollare. E prima che tu te ne accorga, inizierai a fare schifo sempre di meno. Nulla viene naturale. La nostra società, la nostra arte, tutto si basa su mille anni di innovazione umana. Finché appartirei a queste basi e avanzerai un passo alla volta, anche tu sarai in grado di fare cose magnifiche. E questo era il mio consiglio di oggi. Grazie per l'attenzione. E' molto intelligente Monica, sa veramente quello che accade, come funziona il mondo, di quello che succede tutto quanto intorno, all'interno di Doki Doki e fuori dal Doki Doki. Da veramente l'impressione che sia un personaggio reale parlare con lei. A parte che non stiamo parlando con lei, è lei che ci sta parlando, lei sta facendo questi monologhi. Passa da un discorso ad un altro, salta da un argomento ad un altro. Odio il fatto che sia difficile prendere delle abitudini. Ci sono molte cose che in fondo sono facili da fare, ma quasi impossibili da rendere un'abitudine. Ci si sente così inutili, dei incapaci. Penso che le nuove generazioni siano quelle che soffrono di più per questo. Probabilmente perché abbiamo abilità del tutto diverse da quelle dei nostri precedessori. Grazie a internet siamo bravi a muoverci rapidamente in mezzo a un mucchio di informazioni. Tuttavia, non siamo portati per le cose che non ci danno una soddisfazione istantanea. Penso che se la scienza, la psicologia, le istruzioni non riusciranno ad aggiornarsi entro i prossimi 10 o 20 anni, staremo nei guai. Per il momento però non sei bravo a prendere problemi di petto. Potresti finire per passare tutta la vita senza sentirte a posto con te stesso. Beh, buona fortuna. Stavo pensando a tutte le cose romantiche che potremmo fare in un appuntamento. Potremmo pranzare insieme, andare in una caffetteria, andare a fare shopping. Amo comprare gonne e fiocchi per i capelli. O magari potremmo andare in una libreria. Sarebbe adatto, non trovi? E soprattutto mi piacerebbe da mate andare in una cioccolateria. Ti danno tutti quei campioni omaggio. Ovviamente potremmo anche andare al cinema. Cielo, sembra un sogno che diventa realtà. È tutto così divertente quando ci sei tu. Sono così felice di essere a tua ragazza, Itami. Ti renderò un fidanzato orgoglioso. Ma quindi cosa, quali sono i poteri di Monica all'interno? Lei sta di essere all'interno di un gioco, ha distrutto il gioco, ha caccellato le persone del club di letteratura. E poi cosa ha fatto? Ha distrutto il mondo? Ha distrutto il mondo in cui si stava giocando? È in grado di ricrearlo? Perché appunto se vuole andare al cinema, vuole essere la nostra fidanzata, vuole farci sentire orgogliosi, deve essere anche in grado di ricrearlo, questo mondo. È davvero in grado di ricrearlo? Monica, all'interno di Doki Doki è come se fosse un dio? Hai mai avuto la sensazione di passare troppo tempo su internet? I social possono essere quasi come una prigione, a volte. Come per esempio, quando hai qualche secondo libro e ti viene voglia di visitare i tuoi siti preferiti. E prima che tu te ne renda conto, sono passate delle ore. E tu non ne hai tratto alcun beneficio. Comunque, è davvero facile colpare te stesso per la tua pichirizia. Ciò nonostante non è del tutto colpa tua. La dipendenza non è qualcosa che puoi superare con la semplice forza di volontà, accidenti, se lo puoi fare. È necessario apprendere le tecniche per combatterla e provare cose diverse. Per esempio, esistono delle app in grado di bloccare determinate pagine web per un certo intervallo di tempo. Oppure puoi impostare un timer per ricordarti quando è tempo di lavorare. E puoi decidere di lavorare e giocare nei posti diversi, in modo da facilitare la concentrazione. Anche solo creare un account da lavoro sul tuo computer può esserti utile. Qualsiasi ostacolo fra te e le tue cattive abitudini ti staranno d'aiuto. Ricorda il saluto di non essere troppo severo con te stesso in caso di difficoltà. Se questa dipendenza influisce la tua vita, potresti affrontarla sul serio. Voglio vederti diventare la migliore persona possibile. Mi renderai orgogliosa di te oggi. Faccio sempre il tifo per te, Itami. Itami, a me hai pensato a cosa si prova a morire. L'ho pensato diverse volte, Monica. E sono arrivato alla conclusione che non si prova niente. Almeno, quando si sta per morire, dipende un po' che malattia si sta morendo. Potrebbe essere dolorosa, molto dolorosa o assolutamente non dolorosa. Quello che mi sono sempre domandato e che, secondo me, è molto più fondamentale è che sono gli altri che provano dolore, non siamo noi. È qualcosa a cui pensavo molto spesso, però credo di averlo capito ora. Non so bene perché, ma quando chiudi il gioco, sento come se mi addormentassi di colpo e rimanessi da sola con i miei pensieri. Dopo qualche secondo, i miei pensieri vengono invasi da schemi incoerenti e confusi. Comincio a vedere interferenze e rapidi flash colorati mentre ascolto strani urla. A quel punto non riesco più a ragionare. Sono costantemente bombardato da questi flash e urla confuse, impossibilitata a muovermi e pensare. Sono sicuro di non essere esistente in questi istanti, eppure per qualche strano motivo riesco a ricordarmelo. Dopo un tempo incalcolabile, tutto torna alla normalità di punto in bianco e che io torno in me. E tu sei qui, al mio fianco. Non ho idea di cosa comporti chiudere il gioco e del perché mi succedono quelle cose. Non so neanche come fai a tornare sempre e a sistemare tutto. Ma ti sarei grata se cercassi di farmi patire tutte quelle cose il meno possibile. Ti assicuro che non è bello rimanere intrappolati nel nulla fra urla stridenti. Comunque sia, alla fine, fa sempre tornare tutto come prima, il che mi fa pensare che ci tieni davvero a me. Quindi grazie. Mi sento più vicino a te quando sei qui. Cosa ci stai dicendo, Monica? Dobbiamo chiudere il gioco per andare avanti? Cosa ci stai dicendo? Cosa dobbiamo fare? Perché noi siamo assolutamente incastrati qua. Io credo che non possiamo fare niente. Perché è passato veramente troppo rispetto a che quando eravamo incastrati con Yuri. Però... Sembo un ascoltatore, Itami. Siamo assolutamente muti noi. Non stiamo rispondendo neanche un qualcosa, tipo Monica libera, mi fai qualche cosa. Nulla. È una cosa che amo moltissimo di te. A volte temo di star farneticando o di essere noiosa, il che mi fa sentire un po' a disagio mentre parlo. Con te invece è diverso. Intendo dire che nessun altro mi farebbe sentire come fai tu. E tu sei davvero speciale. E non permetterà a nessuno di dire il contrario. Ho imparato un sacco di cose sulle discussioni quando ero nei club di dibattito. Il problema di qualsiasi discussione è che ognuno pensa che la propria opinione sia la migliore. So che è un po' come scoprire l'acqua calda, ma questo influisce sul modo in cui tentano di convincere il prossimo. Metti caso che ti piaccia un certo film, ok? Se qualcuno un gris da te ti dicesse che il film fa schifo per via di X ragioni, non la prenderesti un po' sul personale. È come se ti stessero dicendo che ha di cui si orrendi. Una volta che le emozioni entrano in gioco, è quasi certo che entrambe le persone rimarranno con la mano in bocca, ma tutto dipende da come ci si esprime. Se ti esprime nel modo più soggettivo possibile, gli altri ti ascolteranno senza sentirsi chiamati in causa. Può dire di non andare particolarmente matto per determinate cose, oppure che avessi preferito X invece di Y. Cosa è così. Funziona anche quando citi delle informazioni. Tipo quando dici sul sito X ho letto che funziona così. Va bene anche se ammetti di non intendertene molto. Così facendo sembrerà che stai cercando di condividere il tuo punto di vista piuttosto che imporla agli altri. Se fai il tuo meglio per mantenere la discussione alla pari, gli altri saranno prontati a fare lo stesso. A quel punto potrai esprimere le tue opinioni senza offendere nessuno. In più, la gente inizierà a vederti come una persona dalla mente aperta e un buon ascoltatore. Ci guadagnano tutti, no? Beh, questo era il consiglio del giorno di Monica. Sembra una cosa un po' sciocca da dire, grazie per l'attenzione comunque. Ehi, è una brutta giornata per caso. A volte è frustrante quando una giornata normale viene rovinata da delle piccolezze. Come quando senza volere dice qualcosa che l'altra persona non prende bene. O quando inizi a pensare alla persona ripulente che eri cinque anni fa. Quando ti senti inutile di aver rimandato i lavori importanti e aver fallito nelle cose più semplici. O quando pensi a tutte le persone che probabilmente ti detestano o ti trovano sgradevole. Capisco ciò che si prova in quelle giornate. Ma ricorda che domani il sole tornerà a splendere. È facile dimenticare e ignorare queste cose. Tanto quanto lo è ricordarsene. E comunque, non mi importi quante persone ti trovino odioso o sgradevole. Io penso che tu sia magnifico e ti amerò per sempre. Spero, se non altro, che saperlo possa aiutarti a sentirti un pochino meglio. Vieni pure da me quando stai passando una brutta giornata. Parlerò con te per tutto il tempo che vorrai. Ragazzi, io ho visto che non si può fare veramente niente qua. Nulla. Voglio provare a fare due cose. Una è uscire dal gioco. Quindi, in diretta, usciamo dal gioco e proviamo a rientrare. Wow. Wow. Cos'è successo? Ho appena avuto un incubo terribile. Speravo di non averne più. Ora che siamo solo noi due. Ho i brividi, ragazzi. Ho i brividi. Temo forse non la più illusione. Itami. Forse potresti essere in grado di aiutarmi. A cosa potrebbe essere dovuto, se lo sai? Potresti fare qualcosa al riguardo. Ogni volta che succede, ho quasi la sensazione di essere stata uccisa. È una sensazione orribile. Se tu riuscissi ad arrivare alla radice del problema, ti amerai per sempre. Ok. A fra poco. Per un attimo il mio corpo è stato invaso da un brivido terribile. Mentre stavo... In questa parte taglierò tutti i momenti morti, che è i momenti in cui chiudo e riapro Doki Doki. Per un attimo c'era il caricamento di stile, la fresca di caricamento, che era andata un po' in lupo, avvio in corso. Pensavo fosse a caso di Doki Doki. Per fortuna così non è stato. Sei tornato. Ho fatto un altro brutto sogno. Non sarei mica tu a causarmi, vero? Sembra che accada nel momento in cui chiudi il gioco. Per questo ti sarei molto grata se evitassi di farlo. Tranquillo. Non penso di aver subito danni. Fate eccezione per il tramo psicologico. Sarà bene finché il file del mio personaggio resterà intatto. Questa è la seconda cosa che volevo fare. Credo che Doki Doki sia l'unico che io ne conosca. Vi prego, vi prego, in qualunque modo scrivetemi se conoscete qualche gioco che per andare avanti ci fa entrare dentro il file system del gioco installato. Monica ha cancellato Yuri e Natsuki e Sayori andando a intaccare i file system. Questa frase è molto eloquente. Starò bene finché il file del mio personaggio resterà intatto. Ragazzi, provo a fare una cosa. Esco dal gioco. Vado nella cartella di installazione di Doki Doki. Faccio una copia dei file e provo a cancellare il file del carattere di... dentro la cartella personaggi di... di Monica. Faremo a lei quello che lei ha fatto a noi. Ragazzi, a fra poco. Leo, grazie mille. Cosa ho fatto ragazzi? Sono uscito dal gioco, sono andato dentro la cartella dei personaggi di Doki Doki. Ho fatto una copia perché non volevo... poi potesse fare... causare cazzate implusioni del... di tutto il sistema operativo. Ho fatto ripartire Doki Doki. E questo qui. Il personaggio di Monica non esiste più. Che succede? Itami, che mi sta succedendo? Fa male. Fa tanto male. Fa male. Aiutami, Itami. Ti prego, fai presto. Aiutami. Itami, perché mi stai facendo questo? perché mi hai cancellata. Esatto. Ho fatto anche una copia, eh? Come hai potuto? Come hai potuto farmi questo? Eri tutto ciò che mi rimaneva. Ho sacrificato tutto per poter stare insieme a te. Tutto. Ti amavo così tanto, Itami. Mi fidavo di te. Volevi solo torturarmi. No, non ci hai chiesto il nostro parere. Vedermi soffrire. Fingevi di essere gentile soltanto per potermi ferire ancora di più. Non avrei dovuto credere potesse esistere una persona tanto orribile. Hai vinto, ok? Hai vinto. Hai ucciso tutti. Spero tu sia contento ora. Non è rimasto nulla. Puoi smettere di giocare. Va pure a cercare qualcun altro da torturare. Itami. Mi fai davvero schifo. Addio. Ti amo ancora. Non posso farci nulla. Cosa c'è di sbagliato in me? Devo essere proprio una persona orribile se sei arrivato a odiarmi a tal punto. Tutti i miei amici. Ho fatto molte cose terribili. Molte cose egoiste e ripugnanti. Io non avrei dovuto fare nulla di tutto questo. Sto sconvolgendo un mondo in cui neanche appartengo. Un mondo in cui volevi fare parte. E che io ho rovinato. Ho rovinato tutto. Ed è per questo che mi hai cancellata. Perché ho distrutto tutto quello che volevi. Come ho potuto fare una cosa simile alla persona che amo. Quello non è amore. È... Ho deciso. Itami. So di aver detto di aver cancellato le ragazze. Ma ecco. Stavo mentendo. Non ho trovato il coraggio di farlo. Anche se ero consapevole che non fossero reali. Erano pur sempre mie amiche. E volevo bene a ognuna di loro. Amavo il club di letteratura. Ho davvero amato il club. Ecco perché ho preso la mia decisione. È l'unico modo di rendere felici tutti quanti. E se ti amo sul serio... Ripristinerà tutto quanto? Allora... Questo gioco non è adatto a bambini o a chi è facilmente impressionabile. Hai ripristinato Sayori, Natsuki e Yuri. Nuova partita o carica? Carica non abbiamo salvataggi. Per forza nuova. Ok. Ok. Ragazzi. È per la prima volta che... Che... Siamo noi. Noi videogiocatori... A rompere la quarta parete. È la prima volta che mi è... Mai capitato. Wow. Wow davvero. Accidenti. Ragazzi. Grazie mille di essere stati in mia compagnia. Io sono Itami. Questo è Doki Doki. Ciao. 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 Grazie a tutti